Domenica racconteremo chi era Gio Petrosino, racconteremo gli ultimi terribili giorni che lui passò a Palermo per cercare di bloccare il passaggio della mafia siciliana verso l'America, dei tradimenti che subì e lo racconteremo sia come grande uomo impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, quindi poliziotto, servitore dello Stato, ma anche come esempio la sua famiglia di integrazione in America perché loro andarono là e in qualche modo si integrarono e anche bene. Ecco una passeggiata lungo le vie di Palermo appunto con varie tappe per significare i luoghi vissuti nel periodo in cui lo investigava sulla mano nera e qua in città. Sì, torniamo indietro, siamo nel 1909, cercheremo di fare rivivere alle persone, sarò io stesso a condurre la passeggiata, questi giorni frenetici e questo anche contesto complessivo che c'era a Palermo in quel periodo. Noi partiremo domenica alle 10.30 di fronte alla Prefettura e finiremo in Piazza Marina dove faremo anche alla fine della passeggiata un omaggio floreale alla lapide che c'è lì per Gio Petrosino ed è necessaria la prenotazione per partecipare perché il nostro ricavato, i proventi della passeggiata verranno interamente devoluti in beneficenza, questa è la parte anche sociale attuale, agli angeli della notte. Quindi bisogna necessariamente prenotare per passeggiare al 347-3187-857 attraverso un Whatsapp.